A volte il nostro ego fa sì che noi ci teniamo delle informazioni per paura magari che ci vengano rubate. In realtà la vita, quando tu doni, ti dà altre informazioni da condividere. Si apre. Se tu ti apri, la vita si apre a te. E quindi questo fa sì che condividendo hai modo di recepire più cose. La vita è generosa, è fantastica. A che serviranno denaro, una bella auto, gli oggetti che possedete, se non avrete salute mentale e fisica? Potrete migliorare il vostro tenore di vita, ma a che servirà se dovrete rinunciare alla vostra salute? Ogni giorno passate ore a raggiungere obiettivi materiali, ma neanche una per correre, camminare, meditare. Il primo passo che vi condurrà al cambiamento sarà l'ascolto. Capirete come funziona il vostro corpo, cosa lo danneggia e cosa lo rafforza. Prenderete con sapevolezza che il vostro corpo è un miracolo. La prevenzione è tutto ed è la strada che percorrerete. Fermatevi e ascoltate. Benvenuto Gil. Grazie, grazie a te. Ovviamente sono molto contento e curioso di affrontare con te un tema che forse sei l'unico, tra gli unici, tra i pochi. Tra i pochi direi no, ce ne sono altri sicuramente. E in Italia sicuramente si deve… Qualcuno c'è, qualcuno c'è, però diciamo che sono partiti in Francia. Sì? Sono partiti in Francia, sì. Sono ripartiti in Francia perché in realtà è un tema molto antico e che però poi purtroppo è andato perso. Già con la seconda guerra mondiale si è perso. È stato portato avanti da dei vecchietti, che io sappia, a Bordeaux e qualche altra persona, perché si ricordava che i nonni facevano così. Ok. Sì. L'obiettivo è trattare temi che riguardano benessere personale, psicofisico o prevenzione a tutto tondo. Quindi tocchiamo un po' diversi aspetti. Ovviamente il cibo, l'acqua che utilizziamo per… Per alimentarci non è poco. Possiamo migliorare la nostra esistenza oppure danneggiarla. Eh sì. Adesso siamo più sulla seconda, direi. Ecco. Tu, se dovessi spiegare quello che fai ad una persona che ti vede per la prima volta, cosa diresti? Di cosa ti occupi? Allora, io utilizzo le vibrazioni e i campi elettromagnetici per far sì che le piante crescano di più, meglio, per togliere i fertilizzanti chimici e per avere più qualità nei prodotti. Cosa intendi per utilizzare l'elettromagnetismo, giusto? Capito bene. Sì. Utilizziamo le energie che la vita ci ha fornito gratis. Quindi le correnti elettriche, atmosferiche, il campo magnetico terrestre, tutto quello che è vibrazione, tutta la vita è vibrazione e quindi possiamo utilizzare i colori, possiamo utilizzare le onde di forma, possiamo usare una quantità infinita di cose. Quindi tutto quello che è dare energia e quello che è dare informazione. Ok, specifichiamo cosa intendi quando parli di ogni cosa che ha vita ha una vibrazione. Sì. Possiamo dire che ogni cosa che vive ha una frequenza, è la stessa cosa? Tutto nel mondo ha una determinata energia e una determinata informazione. Tutto vuol dire anche questo tavolo, anche se noi lo percepiamo come fermo, in realtà si muove a livello tonico. Un veliero per navigare ha bisogno dell'aria e ha bisogno di un timone che dà la direzione. Ecco, quindi abbiamo energia ed informazione in tutto, tutto quello che è la vita è basato su questo. Dal momento in cui viene a mancare il movimento allora arriva anche la malattia, arrivano le problematiche, questo sia nell'essere umano ma anche nelle piante. Ok, ma anche se si muove in maniera sbagliata o sbaglio? Sì, abbiamo un problema di informazione, può arrivare una malattia. Se io bevo un'acqua che ha un problema a livello batteriologico, che è un'acqua malsana, che è un'acqua che è passata in tubature sporche, questo qua mi può a lungo andare e creare dei problemi nel corpo. Ok, quindi tutto quanto noi assumiamo nel corpo ha un'importanza fondamentale, ma non è soltanto assumere una carota piuttosto di un pompelmo, è assumere un cibo che abbia una determinata frequenza, una determinata vibrazione. Che sia, quindi, non è buono o cattivo, ma è assimilabile dal nostro corpo. Ma come facciamo a dimostrare, verificare? Eh, la prima cosa è ascoltarsi. Noi tutti lo sappiamo se ci ascoltiamo. Quindi quando io mangio un cibo e ha un sapore che mi piace, sento che sto bene, sento che la notte dormo meglio, allora sicuramente quello è un modo che possiamo utilizzare. Ci sono altri strumenti. Uno famoso è stato fatto con l'acqua, per verificare l'informazione dell'acqua, Masaru Emoto, un giapponese che purtroppo non c'è più, ha cristallizzato i cristalli d'acqua e ha notato che i cristalli, quando erano in presenza di determinate frequenze, nella fattispecie delle parole, erano dei cristalli armoniosi. Quando l'acqua invece era sottoposta a delle musiche o a delle parole che non erano armoniose, questo ha fatto sì che i cristalli addirittura non si formassero. Questo è un metodo. Sicuramente a casa ognuno però può riuscire a percepire quello che gli fa bene se si ascolta. Quindi tu in realtà nella tua attività quotidiana ti occupi di questo aspetto nell'agricoltura e anche nell'acqua? L'acqua è uno strumento. Quali sono i campi di applicazione? Io lo utilizzo proprio nei vigneti, lo utilizzo negli orti, nelle serre, in qualsiasi ambito agricolo. L'acqua è uno strumento, una possibilità. Lavorando sull'acqua si può migliorare assolutamente la produzione di cibo, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista della quantità. Da quanto tempo lo fai più o meno? Sono 3-4 anni che andiamo avanti su questo. Anche se in realtà su questi aspetti ci lavoravo già prima, però in altro ambito. Ah sì? Sì. Cosa facevi prima? Io sono un insegnante di shiatsu. Lavoravo sulla postura con lo shiatsu. Adesso la vita mi ha portato a cambiare. Sì. Sì. Anche per un mio desiderio. In realtà avevo voglia di stare all'aria aperta, avevo voglia di stare con le persone e poter fare qualcosa di bello. Quando tu hai iniziato non sapevi nulla di agricoltura? No, è partita così. Con mia moglie abbiamo deciso di diventare un po' più autonomi dal punto di vista alimentare e non sapevamo far niente. Quindi non sapendo far niente abbiamo cominciato a studiare permacultura, poi siamo arrivati all'elettrocultura e poi abbiamo approfondito tutte le cose. L'inizio non è stato facile perché siamo dovuti andare in Francia a studiare, abbiamo attinto tutte le informazioni possibili, però non era facile perché c'è poca documentazione, ci sono pochi libri sul tema e soprattutto sono in lingua straniera. Ah, ho capito. Quindi devi cercare, continuare a cercare e stai ancora continuando a cercare. Sì, sto anche traducendo, abbiamo tradotto un libro sul paramagnetismo e sul basalto che uscirà a breve tra l'altro, di Yannick Van Dorn che è il pioniere moderno dell'elettrocultura con il quale collaboriamo. Ci sono altri professionisti o hai degli studi o qualcosa che puoi condividerci così? Sì, sono soprattutto studi della prima metà del 1900. Addirittura c'è stato a REM in Francia un convegno dove si è visto che i risultati di tutte le persone che studiavano in Europa all'epoca parlavano di produzioni superiori dal 20 al 200% in più di produzione, quindi una cifra pazzesca. Soprattutto in quel momento utilizzavano la corrente elettrica, utilizzavano la corrente elettrica e con un amperaggio di 3 millesimi di ampere avevano più risultati rispetto a un centesimo di ampere, quindi con una corrente inferiore avevano dei risultati enormi. È stato il convegno forse più importante che c'è stato in Europa nel passato. Poi un altro personaggio molto famoso di cui si potrebbe parlare è George Lakosky, un bielorusso che però lavorava a Parigi e anche lui ha vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900 e ha creato i famosi circuiti oscillanti di Lakosky che non sono altro che dei fili di rame, sono dei fili di rame orientati in una maniera particolare e ha fatto uno studio. Questo studio è stato fatto sui gerani, ha inoculato un cancro ai gerani e ha visto che i gerani che avevano il cancro inoculato ma avevano il suo dispositivo stavano meglio rispetto a tutti e due i gruppi di controllo. Il gruppo che aveva il cancro inoculato con cui non ha fatto niente sono morti tutti i gerani e il gruppo che aveva lasciato senza inoculare il cancro. Ha visto che questi anelli di rame davano dei risultati incredibili proprio sulle piante. Quindi l'effetto principale è protettivo? Quello della protezione? L'effetto principale è di entrare in risonanza con i mitocondri e gli organuli della cellula. Cioè lui si è accorto, lui era un ingegnere e conosceva questi circuiti applicati nell'ingegneria ma aveva studiato anche biologia. Quindi si è trovato con questa grande opportunità di avere queste due conoscenze molto diverse. Le ha messe insieme e ha visto che questi circuiti proprio lavoravano sulla cellula. Poi ha cominciato ad applicarli anche sugli esseri umani con grandi risultati lavorando in ospedale a Parigi. Il rame emette una frequenza, ha una sua vibrazione. Stando vicino alle piante va orientato e va messo con un semicerchio con un'apertura solitamente al nord. Crea una frequenza all'interno, si crea un campo elettromagnetico e questo campo elettromagnetico va ad aiutare la pianta. L'effetto è pazzesco perché l'abbiamo provato più e più volte e le piante a volte molto malate nel giro anche di un giorno a volte si riprendono. Incredibile, ma funziona anche sull'uomo? Sì, bisogna avere però delle accortezze. In alcuni casi non è il caso di applicarlo, altre volte è più adatto. Io parto sempre dalle piante. Rimaniamo sulle piante? Rimaniamo sulle piante che è più facile. Se fai un danno sulla pianta puoi rimediare. Anche perché ci sono due o tre cosucce da sapere prima di applicare gli anelli. Non è così facile arrivare neanche a reperire tutte le informazioni e poi non vanno costruiti a casa. Va fatto con gran condizione di causa. È per questo che tu offri un tipo di formazione in merito. Quindi in sostanza tu ti occupi sia della costruzione di dispositivi, anche altri tipi di dispositivi chiaramente, ma anche del formare le persone. Sì, io tengo dei corsi di formazione. Solitamente il corso basico è di due giorni e in questi due giorni si impara a fare tutti i dispositivi di base dell'elettrocultura e imparare a gestirli in maniera autonoma, di modo che ognuno possa farlo a casa, nell'orto o nella sua azienda a seconda di quello che vuole. Certo. Io so che comunque la Terra ha un suo campo magnetico di base. Quando tu fai questo tipo di elettrocultura, tieni conto di questo campo magnetico o sono cose scollegate? Assolutamente. Però l'elettrocultura è un termino ampio che mette insieme tanti tipi di tecnologie e dispositivi. A me piace chiamarla coltivazione vibrazionale perché racchiude proprio tutto. Noi abbiamo un campo magnetico che attraversa la Terra per semplificare da sud a nord. Se io lo utilizzo, anche mettendo dei semplici magneti, posso costruire delle antenne magnetiche. Amplificando questo campo magnetico aumenta la produzione. Aumenta la produzione solitamente io vedo vicino al 50% in più. Prendi dei magneti, dei magneti inferiti, forati, li rivesti di cera d'api, gli fai passare al centro un filo di ferro zincato galvanizzato e vai esattamente verso nord, partendo dal sud del terreno che vuoi fertilizzare. Per un raggio di un metro ti dà una produzione solitamente superiore al 50% in più. Incredibile. Sì. Bellissimo. Ha un costo irrisorio e ti dà un risultato straordinario. Quindi questo lo può fare anche la signora Pina a casa tranquillamente. Allora me lo rispieghi in maniera un po' più semplice? Hai voglia? Sei già stato semplice? Me lo rispieghi? Allora. Allora immaginiamo che io ho un terreno. Hai un terreno. Nella parte a sud del tuo terreno. Sì. Tu prendi questi magneti, li rivesti di cera d'api. Quanti ne devo avere di magneti? Di solito su magneti che hanno una trazione attorno agli 800 grammi ne metti una decina. Io ne metto 11 perché ho notato che è il numero che in questo momento con quel tipo di magneti che utilizzo mi dà il risultato migliore. Poi dipende sempre dalla potenza del magneto. Sono magneti grandi come una moneta di un euro. Ci fai passare, una volta che li hai ricoperti di cera d'api, la fai colare, li intingi, poi appena li fai riemergere la cera si asciuga e si durisce. Poi al centro di questi magneti, nel foro che hanno, gli fai passare un filo di ferro zincato galvanizzato. E questo lo porti a nord. Puoi andare a nord anche per chilometri se sei esattamente direzionato. In corrispondenza del filo vedrai che le piante crescono molto di più. Per fino a un raggio di un metro. Sì, un metro. Destra-sinistra. Poi cala man mano che ti distanzi. Quindi io consiglio, se avete un orto nord-sud, si può mettere un filo ogni uno o due metri, insomma, ecco. È un po' come se io prendessi, interagissi col campo magnetico naturale terrestre. Esatto. Lo usi, lo amplifichi. Come se avessi dei ripetitori. È un amplificatore proprio del campo magnetico terrestre. È bellissimo perché è gratuito, non devi attaccarti all'ennel. E soprattutto forse è un modo anche per prendere cognizione di causa che... Eh beh, noi non ci pensiamo, ma senza campo magnetico cambierebbe anche tutta la nostra fisiologia. Sono delle forze fondamentali che la vita ci ha dato gratuitamente e che possiamo sfruttare. Prima parlavamo del fatto che, ad esempio, ci sono alcune cose che possono invece danneggiarci. Sì. La posizione della falda acquifera. Sì. Per essere rispetto a dove dormo. Esatto. Corretto. Mi puoi spiegare meglio questo aspetto? Ci sono delle reti energetiche che non vediamo, ma che esistono. Le onde radio ci sono, ma non le vediamo. Eppure nessuno dubita che esistano. Perché la radio ci permette di captarle, ecco. Quando sotto il letto passa una falda acquifera o ci sono dei punti geopatogeni, dei nodi di reti che hanno un tipo di frequenza che non è buona per l'uomo, allora se io ci dormo sopra dormirò meno bene e a lungo termine posso anche ammalarmi. Allo stesso modo si vedranno proprio le piante che si spostano. Quando io ho una pianta e vedo che comincia a crescere storta, molte volte perché nel punto dove è stata piantata c'è un nodo geopatogeno, quindi può essere un nodo di Arman, di Curri, di Benker, oppure c'è un passaggio d'acqua. Quindi la pianta tenderà a schivarlo. In quel caso là andrebbe spostata la pianta. Però lo vedi tante volte con il tronco che si sposta. È bellissimo. Mi specifichi un po' di più quali sono i materiali oltre al rame che ad esempio tu utilizzi per costruire dispositivi? Il rame è stato utilizzato già all'inizio del 1900 da Schauberger, che è stato un austriaco che ha notato che gli strumenti in rame davano una produzione maggiore, perché arrivava fino al 30-40% in più di produzione soltanto utilizzando aratri in rame con delle forme speciali. Perché la terra ha una carica negativa, esattamente come il rame. Quindi quando noi andiamo a lavorarla col ferro creiamo un'interferenza a livello elettromagnetico che può dare delle problematiche e diminuire la fertilità. Quindi già il rame è stato utilizzato già nella fattispecie con una lega e il bronzo perché il rame è troppo malleabile. Però la frequenza del rame è già stata utilizzata in passato per aumentare la produttività. Per il resto utilizziamo materiali come il ferro zincato galvanizzato, l'alluminio e ci sono tutta una serie di materiali che però bisogna capire come assimilare insieme. Cioè ci sono materiali a carica negativa e a carica positiva. La terra ha una carica negativa, il cielo ha una carica positiva e tendiamo a mettere materiali positivi in alto, ad esempio in un'antenna o negativi in basso come il rame che scaricano a terra proprio. Quindi la scelta del materiale non è a caso. Volevo fare un approfondimento sulle antenne parafulmine e sulla capacità che ha il fulmine di dare energia al terreno. È un fenomeno naturale. Anche qua parliamo di energia libera, gratuita. È stata studiata la prima volta attorno al 1700, alla fine del 1700. Il primo che si è accorto che le antenne parafulmine avevano un effetto sulle piante è stato un padovano, un abate padovano, l'abate toaldo. E si è accorto che i gelesomini che crescevano sotto le antenne parafulmine erano più profumati e più grandi rispetto agli altri. Adesso cosa utilizziamo? Delle antenne, sulla base degli studi di Christoflò dell'inizio 1900, sono delle antenne che permettono di captare delle cariche elettriche, cariche molto sottili. Un fulmine danneggerebbe la pianta. Però se noi andiamo a captare con l'effetto punta, con delle punte nell'antenna, delle cariche elettriche, riusciamo a trasmetterle al suolo. Sono cariche molto deboli. Se ci metti la mano non è che prendi la scossa. E questo qua permette di far crescere di più le piante. Le piante hanno sempre bisogno di un'energia molto elettrica, molto debole, non troppo forte. Io prediligo sempre utilizzare l'energia libera. In Cina attualmente stanno utilizzando proprio l'energia elettrica. A me non piace tanto onestamente. La vedo un po' come una violenza, le piante. Proprio collegarsi alla presa elettrica e far passare una corrente, anche perché a volte se un corrente è troppo forte. Però questa è una mia opinione. A me piace... Abbiamo delle energie gratuite che ci ha dato la vita, perché non utilizzarle? No, certo. Quando tu fai la formazione, come funziona più o meno? Di solito sono due giorni. Il primo giorno è quasi tutto di teoria. Arriviamo a capire i dispositivi, come funzionano, le basi che ci sono. Il secondo giorno, la parte della mattina anche è teorica, mentre il pomeriggio è interamente dedicato all'installazione dei dispositivi sul campo. Quindi una volta che abbiamo imparato come funzionano, poi andiamo a metterli giù, di modo che ognuno possa imparare a farlo autonomamente a casa. L'obiettivo è chiaramente quello che le persone siano autonome in questo. Certo. Che non dipendano da nessuno. Certo. Perché in realtà molti dispositivi hanno un prezzo veramente molto basso, sono alla portata di chiunque, e quindi è una grande opportunità che abbiamo per diventare più autonomi, per avere piante più in salute e per star meglio noi. Benefici a livello salutare che tu hai notato su di te? Perché immagino tu mangi. Sì, noi proviamo a produrci, non ce la facciamo produrre tutto purtroppo, però sicuramente il gusto cambia tantissimo. Sì. Il gusto migliora. A volte vedi delle cose particolari, delle cose estremamente grandi. E poi abbiamo quest'anno, abbiamo una pianta di ribes che arriva ai 2,20 metri. Abbiamo avuto un melo che era il melo dei vicini, aveva un ramo, veniva da noi, ha fatto tutte le mele da noi. Quindi le piante scelgono i punti energeticamente più belli. Abbiamo avuto la salvia che è triplicata come taglia. abbiamo, a volte purtroppo diciamo, le ortiche sono arrivate a un metro e cinquanta. Abbiamo avuto un sacco di cose, specie le piante perenni. Vedo che hai risultati incredibili in termini di dimensioni proprio. A volte sono il doppio rispetto a quello che siamo abituati a vedere. E non metti nulla, tipo antiparassitario? Io per filosofia mia no. Quindi lavoro solo con acque informatizzate, con tisane di erbe che vengono fatte proprio con acqua informatizzata. Non mettiamo niente a livello chimico. Quindi usi un'acqua apposta, dedicata? Sì. Fertilizzante. Che comunque informatizzi tu? Sì. Ci sono dei dispositivi fatti anche da persone con cui collaboro che sono proprio adatte a questo. Sennò vengono informatizzate con dispositivi semplici che possiamo fare. E quest'acqua la bevi anche? La puoi bere? Sì. Wow. Che sapore ha? È diverso. È tanto diverso. Non ha più... Io bevo l'acqua del rubinetto che però viene informatizzata con questi dispositivi. Anche se sarebbero creati per l'agricoltura, però è talmente buona che non... Tanto la bevi comunque attraverso gli alimenti. Sì. La bevi attraverso gli alimenti, però anche bere l'acqua, se hai più carico e meno problematiche, stai meglio. Sei più carico? Eh certo. Ti danno energia. Cioè è un altro modo di mangiare e di bere. Quanta acqua bevi al giorno? Ma questo non ho mai fatto il conto. Quando ho sete bevo. Non c'è... Poi dipende dalle giornate. Se come oggi parlo tanto, l'ora bevo di più. Però senti che è cambiata la tua vita dal momento in cui bevi e mangi in questo modo? Beh, sicuramente. Ma poi anche l'energia del luogo dove stiamo è migliorata. Sì. Sì, stiamo lavorando per rendere un ambiente dove stai bene anche. Perché non stanno bene... Le piante sono gli indicatori. La pianta cresce di più, sta meglio. Ma anche tu stai meglio. Quando hai pensato di fare questo cambio di vita? Io ho ricercato di star bene fin da quando avevo 19 anni. Ho chiesto alla vita di trovare gli strumenti per star meglio. E sono arrivate tutte le cose da sé. Non avrei mai pensato di far questo come lavoro. È arrivato come un dono. e me lo godo. È una parte che mi diverte. È una parte che mi piace tanto. Poi c'è una parte dove riesco anche a mettere... a sviluppare la creatività. Perché in realtà noi adesso nell'elettrocultura siamo all'asilo. Non sappiamo ancora niente. E quindi lavoriamo per creare dei dispositivi sempre migliori. E quindi c'è una fase di studio, di prova. Tante volte si sbaglia. E proviamo sempre a migliorare. È uno sforzo enorme, però è bellissimo. È bellissimo. E la soddisfazione è anche vedere le piante che crescono. Certo. Penso sia impressionante vedere una pianta magari del tuo vicino che si piega verso il tuo terreno. Sì. Soprattutto lo vedi. Perché poi quella pianta era anche il posterno nel caso del melo, quindi dalla nostra parte. Quindi è venuto un vivaista e è rimasto a bocca aperta. ha detto io facevo fatica a crederci, però vedo questo e dico wow. Ma ce ne sono un sacco di esempi. Anche sui vigneti abbiamo avuto dei risultati incredibili. Vigneti che erano malati. Migliora proprio... Quando migliori a livello energetico un terreno migliorano tutte le piante. Cambiato il colore dell'erba. È tanto più verde, più... Lo vedi. Cosa potrebbe convincere e smuovere una persona e prendere con sé progliezzi in merito? Provare? Semplicemente provare? Provate, costa niente. Quindi se una persona prova poi non smette più. A parte che è bello, è un po' tornare bambini anche. Certo. Tu torni bambino e cominci a sperimentare, a giocare, metti spirali, cominci a mettere antenne, metti... Quando io ho iniziato, mia moglie ha detto, Gilles, ma cosa stai facendo? Si è trovata la casa piena di spirali di anelli e cosa è questa roba qua? In realtà è stata la prima che si è resa conto dei risultati. Mi ha detto, Gilles, ma hai visto questa pianta? È cresciuta tantissimo. Ho detto, wow. All'inizio provi. Poi ho iniziato a regalare dispositivi in giro per il mondo a tutti gli amici e poi mi mandavano le foto con i risultati delle applicazioni che hanno fatto. Bello, interessante. È partita così. Poi siamo partiti a fare dei corsi perché questa cosa qua era... Io sono sempre stato molto scarso dal punto di vista pratico, manuale. E quindi ho dovuto imparare da zero. Quindi se ce l'ho fatta io, può farcela quiunque. Quindi nei corsi sto attento a dare delle nozioni di modo che tutti possano arrivare a creare gli spettivi. Più pratiche possibile. Sì. Inutile parlare tanto. Poi bisogna farle le cose. Qual è un progetto a breve termine che hai? Stiamo lavorando su dei dispositivi, provando a renderli sempre più funzionali e alla portata di tutti in realtà. L'obiettivo è di fare sempre più corsi di formazione. Già adesso ne abbiamo abbastanza. Però che questa cosa qua prenda sempre più piede. Credo che ce ne sarà un gran beneficio. Sono impegnato nella traduzione di testi e quindi chissà che anche in Italia avremo la possibilità di avere dei libri. Sicuramente. Però al momento traduco. Attualmente se una persona vuole approfondire, cosa fa? Si iscrive al tuo canale? Cos'hai una pagina? Sì. Ho un canale Telegram dove condivido materiale. C'è una chat dove possono fare anche delle domande. Possono ricevere risposte a riguardo. Si chiama Coltivazione Vibrazionale. Altrimenti possono scrivermi per mail gilmattiola.gmail.com Quali sono le domande che ti fanno all'inizio quando arrivano a terra per la prima volta? Vogliono sapere come funziona se non mi sono inventato tutto. Poi di solito quando arrivano nell'orto cambiano idea. Cioè vedono le cose particolari. Bene o male ogni stagione c'è qualcosa di strano che vedi. Sì. E quindi capiscono che c'è qualcosa e poi mi chiedono come fare le cose chiaramente. Certo. Sì. Ovviamente tu in maniera molto umile hai detto imparo, sono come l'asilo in questo momento. Sì, sì. Infatti non sappiamo niente ancora. Poi il capitolo Vibrazioni. Adesso il mio capitolo Vibrazione è tutto. C'è veramente un ambito di studio infinito. è bellissimo perché se uno è curioso ne ha da studiare fino a 90 anni, a 100 anni. Certo. Non c'è, non è mai finita. Tu ti vai a cercare comunque i libri. Magari qualcuno ne parla ma non... Ho studiato tanto, tanto in francese, qualcosa in spagnolo, in italiano c'è qualcosina. È una ricerca continua, è chiaro. Bisogna investire tanto tempo nel ricercare libri e poi magari in un libro ti porti a casa due o tre nozioni e altre due o tre, un altro. Poi metti tutto assieme. Attualmente quanti libri hai letto? Non saprei dirlo. Penso che dovrebbe fare il conto in libreria, però tanti. Anche perché tutti ne parlano magari in maniera diversa, non dando gli stessi termini. Ma poi non sono libri di elettrocultura nello specifico. Tu magari prendi una nozione sul colore da una parte, una nozione sulla forma dall'altra, poi metti insieme, provi a applicare nei dispositivi. Attualmente stiamo studiando tutti i cristalli e gli effetti che fanno sulle piante. Quindi anche quello è un mondo. Quindi ti compri il libro sui cristalli, poi lo applichi l'antenna, vedi cosa succede. Poi dei collaboratori che mi danno una mano anche a capire queste cose. Perché è uno studio di anni e anni. Un parere sull'acqua aponica. Secondo te è un bel mezzo per fare agricoltura oppure dei lati negativi. Allora, premesso che io non so nessuno per giudicare. Cosa ne pensi? Dal punto di vista permaculturale, cioè del riciclo delle risorse, è un sistema intelligente. Dal punto di vista della coltivazione, della qualità dei prodotti, le mie perplessità, non avendolo provato però, sono sul fatto che manchi l'apporto della terra, l'energia della terra sotto. C'è acqua, quindi le piante probabilmente si gonfiano di più ma manca il carbonio. Carbonio è essenziale per creare degli alimenti di qualità. E quindi se devo fare un'obiezione è quella. Quindi tu preferisci che una pianta cresca? Sulla terra. In natura crescono sulla terra, a meno che non sia una pianta acquatica. Però l'insalata ti cresce sulla terra di solito. Invece cosa ne pensi dei depuratori dell'acqua? O dell'acqua in bottiglia? Beh, l'acqua in bottiglia è un'acqua morta, ferma. Quindi... Cosa intendi per morta? Vuol dire che le particelle non sono in movimento. L'acqua in un fiume in natura, l'acqua scende. Scorre. Scorre. L'acqua ha dei movimenti ad ansia, dei movimenti ad onde e dei movimenti a vortice in natura. Tutto questo le dà un determinato tipo di energia, proprio a livello molecolare. Quando l'acqua è in bottiglia, l'acqua non scorre più. Come se fosse stagnante. È come se fosse stagnante, quindi per il nostro corpo non è la stessa cosa. Se metti dei depuratori d'acqua, puoi lavorare sulla parte chimica batterica e utilizzare magari l'acqua del rubinetto per migliorarla dal punto di vista chimico e batteriologico. ci sono altri sistemi che possono essere utilizzati. Ad esempio, in un bosco, l'acqua che scende in un fiume ha a che fare ai suoni degli uccellini, ha la luce, ha una differenza di temperatura, scorre in maniera veloce. Quindi possiamo ricreare le forme, possiamo mettere dei colori, possiamo mettere la luce, possiamo mettere dei suoni. Si può lavorare in tantissimi modi sull'acqua. Per lo stesso concetto che esprimevi prima, due materiali vicini entrano in risonanza, allo stesso modo l'acqua, in un sistema naturale, entra in risonanza con quello che ha intorno. Viene informata da tutto quello che c'è intorno. Viene informata e dinamizzata da tutto quello che c'è intorno. Ha un'informazione diversa e ha un'energia diversa. L'acqua assume una vibrazione diversa e il nostro corpo lo percepisce immediatamente. È più buona, è più assimilabile, stai meglio. Noi dobbiamo imparare dalla natura e vedere come si comporta la natura per poi riprodurre la cosa. Questo in tutto. La natura è maestra, e l'essere umano se riesce a capire questo e a utilizzare delle tecnologie che vanno in armonia con questo allora avrà dei grandi risultati. Secondo te quale tipo di etica ci va per fare agricoltura di questo tipo? Tu ti sei messo delle regole personali che cerchi di seguire? Beh, a parte seguire la natura è lavorare nell'eccellenza, provare a lavorare nell'eccellenza, quindi dare sempre il massimo da questo punto di vista e condividere poi quello che si... le informazioni che si hanno. arrivare a portare a più persone possibile questo. A volte il nostro ego fa sì che noi ci teniamo delle informazioni per paura magari che ci vengano rubate. In realtà la vita, quando tu doni, quando tu condividi, ti dà altre informazioni da condividere. Si apre. se tu ti apri, la vita si apre a te. E quindi questo fa sì che condividendo hai modo di recepire più cose. Presumo sia il percorso di crescita dell'essere umano questo, ecco. Tu quando prima mi dicevi che nel momento in cui hai voluto sapere, hai deciso dentro di te che volevi sapere di più, sono arrivate le informazioni. È arrivato tutto. Ma anche sul come star meglio, vivere meglio, essere più gioiosi, star meglio nella vita. Quindi secondo te un buon metodo iniziale è quello proprio di cominciare a cambiare il modo in cui si pensa? Assolutamente. È la base quella. La base è là. Si comincia a cambiare il modo di pensare e allora poi arriva tutto. La vita è generosa, è fantastica. Ci ha dato tutte queste risorse a disposizione, quindi perché non ti dovrebbe dar tutto? Quando sei pronto, chiaramente, a riceverle. Sì. Parte da noi. Se dovessi fare una sorta di un prima e dopo, no? Tuo, personale. Da che avevi delle abitudini, uno stile di vita, come sei cambiato tu? Direi che è molto meno noiosa la vita adesso. È molto più movimentata, nel senso bello, mi diverto di più, è più stimolante e è una scoperta ogni giorno. È una scoperta ogni giorno. è stato per me l'arrivare alla coltivazione vibrazionale e l'elettrocultura è stato un grande dono. Un grande dono e me lo godo tuttora, insomma, ogni giorno. Oggi che sei più nel verde tutti i giorni? Sì. Meno nel traffico, nell'ansia, nello stress? Avevo bisogno proprio di ricaricarmi, di stare fuori in contatto con la natura, di sole, di aria, di stare proprio in mezzo alla natura. Questa è una cosa che mi piace tanto, abbiamo la fortuna di vivere vicino ai boschi e quindi cambia l'aria, ti ricarica il verde proprio. Se una persona che ascolta questo contenuto non ha un pezzo di terra, non ha un orto, non l'ha mai fatto, cosa gli consiglieresti di fare? Dove cercare un pezzo di terra, verde? Questa è una domanda che ha tante possibili risposte. Beh, magari uno può iniziare, se uno ha un balcone, si può iniziare da un balcone. Sì. Già con dei vasi, nei corsi proprio spiego, anche ho fatto come creare un vaso super fertile, creando un compost locale con quello che si ha a disposizione e abbiamo fatto vari esperimenti e è super, super interessante come tecnica. L'ho presa da un permacultore francese e devo dire che non tornerai più indietro, producì un terriccio fantastico, quindi già in un vaso puoi fare tanto. Quindi in realtà si potrebbe già cominciare con piccole cose. Certo. E lo consiglio, è bello anche prendersi cura di una pianta, vedere, cominciare a farsi l'insalata in casa, come progettare anche il balcone, no? Poi a seconda degli spazi, chiaramente. Progettare il balcone di modo che ti dia il massimo possibile. Cioè arrivare a progettare gli spazi e allora la si comincia davvero a capire tante cose. È meglio cominciare sul piccolo che sul grande. Un ettaro di terra, se un ettaro di terra vuoi iniziare coltivandolo tutto finirai per non far niente. È meglio partire da un piccolo spazio e poi se uno ha occasione poi di ampliarsi, di prendere un piccolo terreno, noi siamo partiti così. Mi sembra che come prima puntata possiamo aver dato uno stimolo. Confidiamo di averlo dato. Sì. Tu come ti sei trovato? Bene. Ti è piaciuto quello che ci siamo detti? Certo. Avresti voluto toccare altri argomenti in più? Beh, sull'elettrocultura ce ne sono un'infinità. Ce ne sono un'infinità e si può veramente spaziare tantissimo. Però secondo me è giusto farlo gradualmente. Sì? E anche nei corsi di formazione. Certo. Puoi. Sì. dove sei anche più libero di esprimerti, di condividere delle informazioni in maniera più serena, più libera. Mi ha fatto piacere parlare di questo aspetto. Ci sono tante cose che vorrei ancora chiederti, però sarebbero troppe in questo momento da assimilare. Una cosa che tu consigli di fare adesso è iscriversi al tuo gruppo Telegram, ad esempio. Sì. Sicuramente l'hanno modo di vedere i corsi quando ci sono, di attingere del materiale di modo che uno se vuole può cominciare a leggerci qualcosa e poi se ha dei dubbi può anche chiedere, insomma. Ok. Quello sicuramente oppure se non è interessato può mandare una mail. Grazie Gil. Grazie a te. Sei stato gentilissimo. Grazie Emanuele. Grazie. Grazie.